ma non lo so ragazzi non lo so tanto ben ritrovati a tutti quanti ma tutte le volte che quest'anno finisco una conferenza stampa di massimiliano allegri mi viene da scuotere la testa e sospirare e basta perché mi sembra palesemente in difficoltà palesemente in crisi cioè mi sembra che lui stesso ogni tanto abbia questa volontà questa voglia di dire certe cose che o non può dire o non vuole dire perché vuol portare avanti un ragionamento inverso come messaggio da portare avanti o una sua linea personale da tenere se mi viene allegri mi sembra veramente nel pallone ragazzi ma veramente nel pallone ma non solo per come prepara determinate partite per quello che poi è l'output quello che è il risultato quello che vediamo tutti ma veramente a livello di comunicazione impacciato e veramente distante da quello che dovrebbe essere l'allenatore della juventus a livello di comunicazione a livello comunicativo quindi non lo so anche per domani ho sensazioni un po contrastanti devo dirvi la verità non sono qui a dirvi che perdremo come avevo detto col maccabi o che straperderemo come avevo detto col benfica ma se oggi dovessi giocare una schedina su questa partita le juve probabilmente potrei definirla da terza scusa da tripla questo vi fa capire quanto io sia uno scommettitore accanito una partita veramente da tripla in cui potrebbe accadere di tutto prima di tutto vi invito a scaricare numero 10 dal link che trovate qui sotto in descrizione è completamente gratuito e uscirà un mio contenuto esclusivo proprio su numero 10 una lavagna tattica che prenderà in esame la juventus di allegri ed eventualmente una juventus di un altro allenatore sempre con la rosa della juve attuale quindi passate scaricate gratuitamente numero 10 per vedere anche questo contenuto si allunga la lista degli infortunati e la lista degli indisponibili perché vlaovic non ha recuperato a dolore all'aduttore a dolore al pube l'altro giorno avevano detto che era uscito per un discorso fisico anche per essere preservato per lecce perché non era proprio al 100 per cento dal punto di vista fisico infatti con lecce non recupera molto bene fantastico se può piovere diluvia e grandina sul bagnato non piove sul bagnato grandina sul bagnato veramente noi questo momento non abbiamo niente a cui aggrapparci dal punto di vista dei risultati nel punto di vista della valorizzazione dal punto di vista fisico nel punto di vista del gioco espresso non ne abbiamo una a cui aggrapparci non lo so lo scudetto morale del tifo migliore non abbia nemmeno quel cioè è un momento molto nero molto nero locatelli invece sarà assente per motivi personali non so se c'entra qualcosa il fatto che sta diventando papà e quindi magari deve fare delle visite con la sua compagna non ne ho la più pallidea abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita di domani contro la squadra ben organizzata con giocatori veloci davanti giocare a lecce non è mai semplice è complicato serve rabbia la reazione dell'eliminazione della champions serve portarsi dietro questa rabbia non solo domani per tutto il campionato sembra il ritornello di una canzone pop che ormai hai sentito troppe volte alla radio e che un certo punto ti è anche stancato e nauseato perché alla fine è sempre il solito ritornello poi fanno una domanda un parallelismo su quando era andato a giocare a lecce da allenatore del cagliari dove le cose non andavano bene e parallelismo da quando ci va da allenatore da juventus con le cose che continuano ad andar bene e dice quella era la mia prima stagione questa è diversa come carriera in campionato siamo in ritardo ma direi che abbiamo tempo e possibilità di recuperare abbiamo quattro partite di campionato una di champions poi verrà la sosta dove avremo recuperato tutti i giocatori e sarà un'altra cosa a ridaglie discorso dei recuperi ora bisogna rimanere concentrati sulla partita difficile domani dove dovremo metterci pari a loro correre come loro e forse servirà anche una partita sporca allora io qui ho pensato sì però mister con tutto il bene che ti posso volere però quando una cosa non sta funzionando seguendo una linea seguendo una linea le cose non stanno funzionando a un certo punto bisognerebbe anche prendere coscienza del fatto che le cose non stanno funzionando e cercarne una differente cercare di seguire una linea differente perché se le cose non vanno così bisogna cercare di fare qualcosa in più e non ci si può sempre solo concentrare su questo discorso del mettersi pari a quegli altri correre come quegli altri far venire fuori valori tecnici superiori fare una partita sporca queste cose hanno funzionato in passato si è vinto bene sono state riproposte in futuro nel presente nel presente nel passato proprio remotissimo non hanno funzionato vanno cambiate è inutile seguire una linea che non funziona se una cosa non funziona bisogna cercare di modificarla e non di seguire una linea che non va perché errare è umano capita perseverare è diabolico poi a una certa questi discorsi stancano quando i risultati non arrivano e si vorrebbe cercare di capire come uscire da questa situazione senza bisogno di sentirsi dire ancora le stesse cose vedere sempre le stesse cose si potrebbe cambiare un attimino un attimino pensare all'europa liga ora non serve niente testa al campionato partita complicata contro una squadra che ha tenuto in bilico gare partite come napoli inter fiorentina e il che è vero certo che bisogna prestare attenzione ma quando mai si è giocata una partita di pallone in cui non era necessario prestare attenzione agli avversari cioè ma quando l'avete vista una partita giocata in questo modo o quando avete giocato una partita senza prestare attenzione agli avversari a buone qualità è ben organizzata in contropiede diventano pericolosi dobbiamo stare attenti d'accordo poi dicono ma scusi ma se non è un fallimento quello della juventus che cos'è e dice beh nella vita capitano anche queste cose qui non trovo la parola adatta per giudicare il momento della juventus beh lo so io è fallimento e non c'è vergogna nel dirlo perché nella vita capitano queste cose qui ma vanno anche riconosciute vanno accettate vanno evidenziate per cercare di migliorarsi invece il nascondere le cose sotto il tappeto la polvere sotto il tappeto non stai pulendo stai semplicemente cercando una strategia una cosa più veloce per arrivare a una soluzione raffazzonata che non accontenta niente nessuno cioè proprio si vede che è in difficoltà perché che cosa gli costa dire che è un fallimento in champions che cosa gli costa è palese hai fatto tre punti su cinque partite porca di una miseria noi dobbiamo continuare a lavorare ci sono state squadre fuori dalla champions per otto anni ma a me che cacchio me ne frega di quegli altri ci sono squadre che che non sono mai venuti in serie a ci sono squadre che alla champions non ci ha mai partecipato ci sono squadre che non ha mai vinto il campionato e quindi e quindi e noi siamo la juventus eh attenzione cioè la juventus non è che allora ci sediamo sulla riva del fiume aspettiamo che arrivi il momento allora non facciamo investimenti non andiamo ad aumentare gli ingaggi non andiamo a comprare i giocatori non andiamo a fare mercato perché tanto ci sono squadre che sono state fuori da champions otto anni possiamo aspettare il nostro momento ma che cacchio di ragionamento è ma che discorso è è ovvio che il tifoso da juventus il dirigente da juventus l'allenatore da juventus i giocatori da juventus debbano avere la voglia l'orgoglio la motivazione di dire oh cazzarola sta andando male cerchiamo di modificarla no ma tanto gli altri sono stati fuori da champions otto anni ah beh allora ora chiedo scusa sono io il matto che che sono deluso dal fatto che si siano fatti tre punti in quattro partite di in cinque partite di champions prendendone quattro su cinque sono io il matto che in questo momento guardo la classe che in serie dico boh che schifo sono io il matto che guardo una partita e mi sembra che veramente tutti possano metterci sotto in un qualsiasi momento proprio perché manca quel quello che diceva prima del lecce no quell'organizzazione che ha una squadra con buone qualità no non ce l'abbiamo non c'abbiamo niente di tutto questo quindi non lo so cioè davvero non lo so dove si voglia andare a parare seguendo questa linea del nascondo la realtà per fare in modo di far capire che ma ma c'è ma per quale diavolo di motivo si sta facendo schifo e si dice che è però gli altri è però no è però sai è però qui è però lì è però su è però giù e poi dice non mi piaccia gli alibi le giustificazioni dopo dieci minuti di conferenza stampa c'è proprio una difficoltà di comunicazione in questo momento quando basterebbe davvero dire oh ragazzi c'è la juventus diciamo siamo stati eliminati dalla champions a ottobre vincendo una partita perdendo contro una squadra che era vent'anni che non vinceva fallimento è palese non c'è bisogno che ve lo dica io no bisogna difendere bisogna difendere non si sa che cosa perché in questo momento non si sa che cosa sia necessario difendere cioè a me sembra veramente un uomo rassegnato al suo destino rassegnato al fatto che ormai sta andando così e quindi andata così vediamo non lo so mi viene da dire gli hanno detto che lo lascia lì a tutti i costi non lo so non ho idea di come una persona possa reagire in questo modo dopo quello che sta vivendo e dopo che non sta funzionando quello che vuol fare ma c'è questa presunzione di non voler nemmeno provare a cambiare questa presunzione di non voler nemmeno mettere in dubbio il fatto che potrebbe essere effettivamente un fallimento no se si va avanti così e va tutto bene così cioè sembra quasi uno e vabbè gli altri gli altri un cazzo cioè veramente gli altri un cazzo non bisogna andare in frustrazione non se ne esce più domani bisogna pensare che una partita complicata che va giocata con compattezza anche senza l'eliminazione della champion sarebbe dovuta essere una roba di questo tipo e si torna sempre a parlare della partita di domani dicendo sempre le stesse due cose in croce sulla partita di domani e basta cercando di nascondere invece quello che sta succedendo in questo in questo periodo cercando di nascondere quello che è successo soltanto martedì poi dice nelle cose negative c'è un risvolto positivo il settore giovanile della juve miretti link fagioli oltre a sulle ad altri non è che per una partita però bisogna cambiare tutto e stravolgere tutto poi magari domani giocherà qualche giovane ci sono anche risvolti positivi come il settore giovanile non è che una partita bisogna stravolgere tutto ma non è una partita o almeno personalmente non mi pare che sia una partita che ti sta facendo capire che ci sono dei giocatori del vecchio ciclo che hanno finito 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 che non ce la fanno più che alla pancia piena o che fisicamente non ce la fanno più mentalmente non ce la fanno più non sono più quelli di una volta invece sono dei giocatori che sono lì pronti sull'esplodere non mi sembra una partita cioè stiamo semplificando stiamo estremizzando ma veramente in una maniera quindi cilin può giocare anche a destra ma è meglio a sinistra domani abbiamo 19 giocatori di cui tre portiri quindi 16 di movimento le sostituzioni sono cinque siamo pronti per giocare la partita e serve compattarsi ancora di più per ottenere un risultato chiese pogba non sono convocati impossibile che vengano convocati mercoledì al 99 per cento non ci sono neanche con l'inter se ci saranno ma sarà molto difficile con il verona e l'ultima con la lazio ma sarà comunque molto difficile vabbè per me questa cosa ci sta perché se devo rischiare di farli giocare a caso quando non sono ancora pronti preferisco che che vadano a fare la partita soltanto quando sono recuperati effettivamente quindi per me questa cosa è condivisibilissima fagioli o miretti domani vedremo chi far giocare davanti la difesa perché senza locatelle e paredes poi si apre anche questo dubbio qua il presidente ha rasserenato tutti per l'extracampo ne dobbiamo dare risposte sul campo a sì c'è necessità di dare risposte sul campo interessante buona sapersi l'arrabbiatura per l'eliminazione normale se non rimane non va bene le stagioni sono fatti di episodi di momenti in questo momento serve fare qualcosa in più per far girare le cose a nostro favore allora perché se lo sai lo dici cinque minuti dopo prima è sempre una partita complicata la partita molto difficile è una partita in cui bisogna mettersi pari a loro una partita in cui bisogna rispettare una partita in cui bisogna fare le cose sporche se serve fare qualcosa di diverso ora facciamo qualcosa di diverso per far girare le cose a nostro favore facciamolo diciamolo ammettiamo che fino adesso si è fatto male si è fatto male bene chiudiamo la pagina lasciamocelo alle spalle lasciamocelo alle spalle con la consapevolezza che è stato un fallimento perché si è seguita una linea che non sta funzionando e se si è seguita una linea che non sta funzionando e quindi si è tramutata un fallimento quella linea l'abbandoniamo per cercare di non fallire ancora di più perché il punto più basso della stagione seguendo questa linea non è arrivato col maccabi non è arrivato col monza non è arrivata con l'eliminazione arriverà e arriverà un altro conto ancora più salato da pagare però per far sì che si possa evitare questa cosa bisogna ammettere ammettere avere il coraggio la forza le palle di ammettere che sia fallito perché sennò non si migliora dicendo che è andato sempre tutto bene è la sfiga e gli altri è però gli infortunati non esiste non esiste non esiste fuori dal campo non ci aiuta nessuno siamo solo noi in campo nei momenti difficoltà si cresce va presa come un'opportunità di crescere allora iniziamo a crescere perché la crescita qua non si sta vedendo giustificazioni alibi non mi piacciono dice e meno male fantastico stiamo facendo una stagione dove al momento e poi dice in campionato abbiamo dei dubbi di ritardo e vabbè non parlo della partita con la salernitana ma come se fosse quello il problema cioè io io qui mi sono già espresso ma io qui impazzisco quando mi dice che il problema è quella settimana lì con monza salernitana ma porca di una puttana ma ma stiamo scherzando stiamo scherzando stiamo dicendo davvero negli ultimi 20 partite cos'è ne abbiamo perse 9 leggevo una roba del genere e noi ci focalizziamo sull'episodio con la salernitana io non so in quale universo parallelo sono finito il multiverso è un concetto del quale conosciamo spaventosamente poco perché se no non non me lo spiego abbiamo fatto male in champions quello si abbiamo fatto male abbiamo fatto male è stato un fallimento mister non è che abbiamo fatto male porca di una puttana abbiamo fatto male minimizzare minimizziamo allora minimizziamo minimizziamo tutto domani è una partita difficile contro il lecce col seno di poi è quando si dica le cose sul momento la decisione giusta con i sei bla 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 questo è un discorso che condivido ma che non ho voglia di analizzare perché non c'entra un cazzo veramente col momento poi dice accerchiati no non ci sentiamo accerchiati è un momento di difficoltà come capita anche in altre società la juve è unica per questo in difficoltà viene elevata la massima potenza chissà perché sarà perché la juventus è sempre abituato a un certo standard qualitativo che in questo momento non si sta seguendo la butto lì potrebbe essere una chiave di lettura interessante dobbiamo rovesciare il momento ma non in una partita è quello il problema è quello lì il problema che non ci stiamo riuscendo a dare continuità non stiamo riuscendo a fare un filotto questo gruppo valori morali importanti domani faremo una bella prestazione cercando di fare risultato dove quando è sfumato lo scudetto parlarne oggi serve bene a poco mercoledì o martedì mi sa martedì è stata una batosta importante dobbiamo reagire trovare la vittoria siamo dietro in classifica il napoli sta facendo cose straordinarie come il milan poi ci sono lazio inter e roma e noi siamo dietro infatti abbiamo lazio inter nelle prossime partite prima del mondiale e io qua voglio vedere voglio proprio vedervi perché sarà un disastro pian piano dobbiamo rubacchiare dei punti a quelli che sono davanti ci sarebbe anche in realtà oltre che rubacchiare dei punti sperando in un incastro fortuito di calendario iniziare a ragionare di essere una squadra che possa essere in grado di vincere dei scontri diretti perché se in due anni non abbiamo mai vinto se non uno con il celsi significa che in questo momento non siamo in grado di competere con le altre squadre perché siamo palesemente indietro e non è una coincidenza è un dato rifatto la coincidenza magari delle due è stata l'unica vittoria in un filotto di partite ripetute in cui non sei mai stato padrone mai mai invece no non è un fallimento gli altri e gli alibi e gli infortunati e la salernità nella settimana per forza poi mi girano i maroni scusatemi però per forza mi girano i maroni perché la fase della negazione proprio mi sembra una cosa bambinesca una cosa bambinesca la fase della negazione la negazione di questo momento terrificante della juve proprio io non credo che il tifoso si meriti la negazione del momento io credo che il tifoso si meriti la verità in faccia dato che siamo tutti in grado di vedere siamo tutti fortunatamente intelligenti nel capire quello che stiamo vedendo sentirmi dire che poi in realtà le cose non stanno andando così male e forse si vede troppo nero e forse quella settimana lì e forse in realtà le cose vanno bene e forse in realtà però mi girano mi girano veramente mi girano mi girano tantissimo mi girano tantissimo perché magari a caldo lo pensi però dopo dici cazzo non è un fallimento è certo che è un fallimento che figura di merda di una roba del genere in conferenza dici l'altro giorno ho detto che è un fallimento beh ci ho ripensato sai a freddo ci ho pensato no non mi viene in mente il termine sceglietelo voi ma niente alibi eh niente giustificazioni quelli non mi piacciono vabbè vabbè non è rafforzamento della mia posizione è l'obiettivo di portare la juve più in alto possibile sì ma la juve più in alto possibile non si porta da sola non si porta da sola bisogna avere il coraggio di ammettere che le cose che si sono fatte fino adesso che si stanno facendo non stanno andando nel verso in cui magari si pensava potessero andare ripeto errare è umano perseverare è diabolico non ammetterlo non lo so sceglietela voi cheat poi ci sono dei contrattempi che nessuno sa magari con la sfera di cristallo avrei deciso altre cose sì ma questa è proprio una palese citazione ha fatto gli infortuni ma non è che se ci fosse stato Pogba tu avresti risolto tutti i problemi cioè intendiamo perché sembra quasi qua il discorso che è sai se avessi avuto Pogba sì ma tu non è che sei lì per giocarti l'accesso del girone non è che sei lì per giocarti lo scudetto tu sei dietro di tutto sei dietro a tutto a qualsiasi cosa sei inferiore a qualsiasi squadra domani con lecce mi viene a dire che è una partita da tripla ma mica perché non c'è Pogba porca di una miseria di una santo dio che veramente sembra sempre che che sia quello il problema non c'è Pogba neanche gli altri hanno Pogba neanche gli altri eppure anche gli altri quando degli infortuni delle assenze pesanti come può essere Pogba da noi in qualche modo riescono a far vedere che o comunque se non ci riescono magari in un determinato scontroietto di quel livello ci può stare che sia quello il problema però che poi tu sia sotto con tutte le altre che tu sia sopra di tanto in tanto è gravemente insufficiente la stagione di eventus fino adesso come si fa a non ammettere questa cosa io non riesco a capire come si faccia a non ammettere questa cosa qua e poi dice serve trovare soluzioni nelle problematiche con lucidità e freddezza e quali sono queste soluzioni no sono curioso di saperle quali sono queste soluzioni trovate alle problematiche con lucidità e freddezza sono veramente curioso poi dice inedita Ken Millie come coppia d'attacco non è si sposano bene per le caratteristiche ci sta ogni tanto che Ken faccia delle partite meno buone serve una partita squadra è solida ma il fatto che serve una partita di squadra sono d'accordo sono d'accordo ma ci mancherebbe altro lo sport di squadra porca di una vacca bisogna avere fiducia non possiamo cambiare risultati già fatti ma la partita successiva dalla possibilità di cambiare la visione delle cose che magari oggi non è così negativa e allora per cambiare la visione delle cose che magari oggi non è così negativa serve una risposta importante nella partita di domani e nelle partite successive senza bisogno di star qui a giustificarsi a nascondere la realtà bisogna dire siamo indietro in campionato o per dinci bacco non ce l'aspettavamo quindi abbiamo fatto male peggio di quanto pensavamo siamo usciti in champions o per dinci bacco pensavano di superare il girone quindi abbiamo fallito il primo obiettivo stagionale perché un obiettivo stagionale l'hai fallito e quindi è un fallimento lato champions league e quindi ci mettiamo nell'ordine delle idee di capire quali sono stati gli errori e cercare di migliorarli però se poi l'errore e cercare di migliorarli nell'analisi della partita col benfica è abbiamo preso due ripartenze ma dove vogliamo andare allora dove vogliamo andare se nell'analisi della partita col benfica diciamo abbiamo preso due ripartenze ci hanno demolito ci hanno dominato hanno andato al ritorno due ripartenze va bene due ripartenze facciamo gli ultimi 12 giorni poi ci rivediamo a febbraio con altri giocatori chiederanno respiro a chi ha giocato di più in questo periodo e intanto e intanto in panchina continuano ad esserci giocatori che hanno un minutaggio ridicolo ridicolo che non vengano presi in considerazione perché boh e anche con caratteristiche interessanti come miretti che è stato uno dei migliori nella prima parte di stagione e poi per un errore singolo è stato è stato buttato nel dimenticatoio però probabilmente sono cose che non sto capendo io è una cosa che probabilmente non sto capendo io perché se no non si spiegano e questa ragazza è un po il riassunto della conferenza stampa di massimiliano allegri dove veramente sto continuando a notare un uomo veramente in difficoltà ma veramente in difficoltà nell'esprimere quello che che vorrebbe esprimere o forse anche solo nel che non è mai stato abituato a doversi mettere in discussione cioè capita nella vita nessuno è perfetto cazzo cazzo nessuno è perfetto bisogna mettersi in discussione invece che essere sempre lì a dire no io sono perfetto così come sono e sono gli altri che sbagliano perché sennò non si migliora e non si esce da queste situazioni mai e poi mai iscriviti al nostro canale